La comunità rumena di Pistoia ha incontrato i sanitari dell'ospedale San Jacopo in occasione della festa nazionale della Romania. L'associazione Evrica, che riunisce gran parte dei cittadini rumeni che abitano a Pistoia, ha devoluto la somma che sarebbe stata impiegata per gli eventi e le iniziative della giornata commemorativa, che non si è svolta a causa delle restrizioni dovute al Covid per offrire ai dipendenti dell'ospedale la colazione e il caffè pomeridiano. Sono 102 anni della unificazione della Romania. Non facendo questa festa abbiamo pensato a questa iniziativa che per noi è al cuore. Ci piace tanto che abbiamo potuto fare una cosa piccola per il personale, per l'ospedale, per tutto lo personale. È un messaggio di grande vicinanza al nostro personale che anche in questa seconda ondata è impegnato in maniera proprio costante e presente sull'ospedale. Quindi qualsiasi messaggio di solidarietà, indipendentemente dalla forma in cui viene espresso, è senz'altro un messaggio gradito che noi riportiamo, siamo i portavoce, riportiamo ai nostri colleghi nella misura in cui l'impegno e la dedizione quotidiana sono i valori che accompagnano i professionisti durante il loro lavoro.